we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi abbiamo tutte le novità delle ultime 24 ore di fortnite racchiuse in questi pochi minuti oramai le informazioni che ci arrivano sono tonnellate tutte dedicate ovviamente all'evento del galactus che vi ricordo si terrà il primo dicembre alle ore 22 sia relative alla stagione 5 abbiamo probabilmente la data ufficiale di inizio della season voglio parlarvi di tante cose ma prima voglio ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi attenzione però ragazzi non vi farò comunque vedere niente dedicato all'evento ma vi parlerò di alcune cose non sono spoiler grandi quindi potete tranquillamente guardare questo video non avrete nessun problema numero uno ragazzi arriva una nuova rarità delle skin o meglio una nuova variante come sappiamo esistono le classiche leggendaria epica rara non comune le varianti quelle dark le varianti quelle dei vari bundle quelle di marvel adesso arriverà anche la circuit series che quindi sarà dedicata al galactus e a tutto quello che arriverà con il galactus ho anche uno spezzone video da farvi vedere come vedete ragazzi il background quindi la parte dietro della skin è tutta animata con quell'immagine che in realtà vi avevo già fatto vedere nell'ultima patch la 14.60 c'era proprio il circuito finalmente sappiamo come sarà in game questo vuol dire che arriverà della roba degli outfit magari dei picconi magari di deltaplani che entreranno a far parte di un'unica grande serie ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono anche delle modifiche o meglio degli aggiornamenti per quanto riguarda l'emersione quindi l'uscire dalle acque del galactus nell'ultimo video news vi avevo fatto vedere che sotto la mappa potevate nella modalità replay vedere il galactus mentre qua ragazzi stiamo scorrendo le immagini e cominciamo a vedere che lentamente in fondo dove ci sono le isole il galactus sta risalendo e molto probabilmente questa immagine potrebbe essere una delle ultime che vedremo prima del primo dicembre quindi di nuovo la testa con le corna del galactus che ci fa capire essere davvero molto vicino alla mappa basta pensare per fare un confronto di quanto è grande che porca miseria solamente la testa è più alta delle montagne quindi stiamo veramente parlando di qualcosa di mastodontico e di nuovo ne approfitto per ricordarvi che epic games ha dichiarato che questo evento che stiamo per vivere sarà il più grande nella storia di fortnite dal 2017 ad oggi hanno investito tantissime ore di lavoro con tantissimi sviluppatori e proprio parecchi parecchi soldi per gestire e creare quello che sarà un qualcosa che ci ricorderemo per sempre così dicono loro e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché vi ricordo che mano a mano che i giorni passeranno nella pre lobby ci sarà anche la colorazione diversa del timer quindi adesso lo abbiamo ancora di colore azzurro quando mancheranno 14 ore ad esempio diventerà giallo quando invece mancheranno pochi minuti diventerà rosso vi ricordo ancora di accedere a fortnite proprio fisicamente restate dentro fortnite perché altrimenti dischiette di non poter proprio entrare neanche nel gioco e quando saranno le 23 le 21 e 30 verrà aperta la possibilità di entrare nella modalità dedicata all'evento entrateci subito così da non perdere la coda da non perdere ovviamente l'evento andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arriva un tweet della pagina ufficiale di fortnite che è relativo ovviamente all'evento dice we can save the island if we work together quindi noi potremo salvare l'isola se lavoriamo insieme questa è la nostra ultima chance 12 1 2020 loro mettono le date diverse da noi quindi vuol dire 1 dicembre 2020 per loro sono le 4 del pomeriggio per noi sono le 10 di sera c'è la foto di iron man che è quella in realtà che è presente anche in un loading screen risponde direttamente la pagina di iron che dice game time meet us on the bus it's time to put this plan in motion è tempo i giochi sono fatti game time ci vedremo nell'autobus è tempo di mettere in pratica il piano come sappiamo iron man sta organizzando tante cose la modifica dell'autobus l'arrivo nella mappa di alcune location e della sua isola gigante le stark industries quindi anche lì ci sarà sicuramente una connessione con l'evento parlando ancora del galactus vi ricordo che il nome dell'evento sarà di devorer of the world quindi il divoratore di mondi che ci porterà alla season 5 vi faccio vedere uno spezzone davvero incredibile che è venuto fuori a qualcuno ragazzi questo sarà ciò che capiterà molto probabilmente to be continued quindi dopo l'evento in season 5 il fatto ragazzi che è apparsa questa questa schermata video e come vedete in basso a destra che ci sia un timer lasciate perdere l'ora del timer che è sbagliato vuol dire che la season non inizierà subito quindi avremo di nuovo un grande e lunghissimo downtime dei server è praticamente ufficiale non dovrebbe però in realtà essere un downtime come il buco nero quindi 36 ore di server off si parla che possa arrivare solamente dopo 10 ore quindi il 2 dicembre vorrebbe dire alle 8 del mattino indicativamente sono speculazioni non ne abbiamo la certezza ma il video che vi ho appena fatto vedere ci conferma che di nuovo avremo un altro grandissimo downtime questa volta non sarà per un cambio di season ma sarà per separare a metà la stagione arriviamo direttamente alla season 5 quindi la season del giro di boa e andiamo avanti a parlare dell'ultimo argomento di oggi mentre intanto vediamo le immagini del nuovo autobus di una cosa molto particolare nel trail nell'easter egg chiamatelo un po come vi pare che hanno pubblicato sulla pagina ufficiale di fortnite quindi l'immagine che vedete sotto di me noterete che come background c'è il galactus ma ci sono 6 autobus della battaglia e guarda caso nell'immagine a destra dove si vede ovviamente il momento in cui sta esplodendo il nucleo centrale della vecchia mappa quindi parliamo dell'evento della season 10 del capitolo 1 ci sono proprio altri 6 cosi luminosi potrebbero essere gli autobus della battaglia è un punto di domanda che per adesso non sappiamo rispondere però è davvero una coincidenza molto curiosa insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette mi raccomando i pollicioni in su raga schiacciate quel like se volete fate un commentino anche un cuore mandiamo questo video nei consigliati ci tengo tanto le news arrivano e non vedo l'ora di vedere la nuova season noi però ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao